Stati Generali del Vending 2023 ci troviamo nella sede di ConfCommercio a Piazza Giacchino Belli 2 a Roma oggi è l'8 novembre e come vedete alle nostre spalle non c'è ancora nessuno in sala perché stanno iniziando ad arrivare tutti i partecipanti si prevedono oltre 200 partecipanti tra il pubblico del vending parliamo di imprenditori titolari di impresa agenti di commercio tutti coloro che hanno in qualche modo a che fare in modo attivo con la distribuzione automatica è l'evento annuale che in tutti i mesi di novembre si tiene proprio qui nella sala principale della sede di ConfCommercio oggi con noi ad aprire le interviste c'è Roberto Pace il presidente del gruppo giovani di Confida l'associazione italiana distribuzione automatica che interverrà tra i tanti nel corso della mattinata Roberto buongiorno e bentornato buongiorno a te parlami in breve di quello che sarà il tuo intervento al mio intervento verterà principalmente sul tema della forza lavoro abbiamo un tema sicuramente molto caldo nel nostro settore ma un po in tutti i settori dell'economia italiana e anche di altri paesi manca la mano d'opera ed è un paradosso perché in un paese come quello italiano dove la disoccupazione è ancora vicina alle due cifre non riuscire a trovare forza lavoro è veramente particolare è particolare ma soprattutto impattante perché le nostre aziende hanno la possibilità di ripartire hanno la possibilità di cogliere tante opportunità ma sono frenate ovviamente dalla mancanza di personale personale un po in tutti i settori ma principalmente in quello degli addetti a rifornimento dei tecnici che però messi insieme cubano all'incirca il 70 per cento della forza lavoro necessaria per svolgere il nostro lavoro e quindi parlerò di questo tema parlerò punterò a fare delle richieste ai governanti perché ovviamente devono aiutarci non possiamo far sempre tutto da soli parlerai però credo anche della situazione che si è creata negli ultimi giorni dovuta al maltempo e all'inondazione che ha colpito proprio una parte dell'area dove risiede l'azienda che dirigi sì sicuramente la nostra area è stata colpita fortunatamente la nostra azienda in modo molto marginale ma i distributori che sono installati dai nostri clienti hanno subito molti danni sui numeri siamo ancora in fase di valutazione però il danno è sicuramente consistente ma l'intervento più che sulla mia azienda e più che sulla mia situazione vorrei farlo alle istituzioni perché quando si parla di sostenibilità dobbiamo anche pensare alla salvaguardia e alla messa in sicurezza del territorio l'economia delle aziende dipende anche da quanto il territorio sia in grado di supportare le attività e se a causa di queste calamità si fermano le economie, vanno in crisi, le famiglie ne soffrono perché si vedono spazzate via anni di lavoro e di risparmi con un temporale e ovviamente questo è un danno per l'economia, è un danno per le nostre aziende, è un danno per tutto l'indotto quindi è un altro tema che sicuramente affronterò. Ascolteremo con molta attenzione dunque il tuo intervento che insieme a quello di tutti gli altri troverete in modo separato e dedicato insieme alla specifica intervista realizzata prima degli stati generali su vendingnews.it e vendingtv.it Roberto e allora buon lavoro, stanno per iniziare i lavori, vedo tanta gente che inizia a registrarsi e nel frattempo dunque passiamo la parola anche a qualcun altro. Grazie per l'intervento. Grazie a te Fabio e buona giornata.